La battaglia si è combattuta sul numero legale. È stato questo il gioco delle opposizioni, che avevano deciso di partecipare al voto di fiducia solo se il centro-destra avesse raggiunto la quota minima di presenze. Quindi nessuna risposta alla prima chiama e tutti fuori dall'emiciclo, riproponendo di fatto l'immagine di metà aula vuota. Un tentativo, questo, per rinviare il voto di fiducia, ma che di fatto sarebbe significato bocciatura. Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, dopo la certezza dei numeri, ha ostentato sicurezza, bollando il voto come figuraccia delle opposizioni. Ma in realtà l'esecutivo è rimasto sul filo del rasoio per l'intera mattinata, con il pallottogliere del numero legale che saliva e scendeva secondo le interpretazioni e con la preoccupazione sollevata dalla dichiarazione di Luciano Sardelli, deputato di Popolo e Territorio, che non avrebbe votato la fiducia. Di fatto la coalizione di governo perde il sostegno di quattro deputati, Versace, Gava, Destro e Sardelli. Il momento però che ha segnato la svolta è stato l'ingresso alle 13.41 dei radicali, che sono stati determinanti nella tenuta del numero legale e che hanno fatto fallire la strategia comune delle opposizioni. A quel punto l'altra metà dell'emiciclo rientra e le opposizioni rispondono alla seconda chiama. La rabbia sale e tra i banchi dei radicali e quelli del PD ci sono delle contestazioni, che proseguiranno con le dichiarazioni anche fuori dall'aula. Ma sui radicali ha parlato ieri il segretario. Si erano da tempo autosospesi, con le scelte che hanno compiuto in questi giorni, è evidente che le strade sono separate. D'altra parte non hanno mai fatto parte del nostro partito. Prosegue però la strategia del Partito Democratico per mettere la parola fila ad un governo con una maggioranza solo numerica che non rispecchia il Paese. Questo governo morirà di fiducia. Questa è la sintesi del segretario del PD Bersani. La Presidente del Partito, Rosi Bindi, invece commenta così. Il risultato è evidente. La maggioranza continua a perdere pezzi. Questa fiducia serve solo ad arrivare alla prossima fiducia. La lettera del Presidente Napolitano non chiedeva una verifica della fiducia. chiedeva la capacità effettiva di assicurare le scelte per il Paese. Sappiamo che questa non ci sarà e c'è un altro dato politico molto interessante. Le opposizioni sono unite e possono rappresentare un'alternativa per il futuro. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, fa sapere tramite una nota che non c'era obbligo giuridico di dimissioni, ma era necessaria una verifica parlamentare dopo l'incidente sul rendiconto del bilancio dello Stato. Con quella di oggi si è giunti al 53esima fiducia, ma mentre Berlusconi ride, il Paese invece piange.